adesso farlo sta spiegando come e la metti sul banco delicato e qua penso che tocchiamo un argomento un po' difficile per Peppe utilizzi la tecnica dello slap, dello schiaffo, che noi siamo a Napoli un schiaffo a lui e basta, si deve lavorare poco l'impasto poi si condisce, perché questo qua guarda Peppe, questo qua noi abbiamo fatto la tela questo è un quadro, abbiamo fatto la tela e poi adesso cosa facciamo? la dobbiamo dipingere, capito? questo è un quadro e lo dobbiamo dipingere questa è la crema di pistacchio che verrà fatta dopo questa qua invece è una vellutata di friariello mamma mia, vellutata di friariello, invidiateci Carlo, questo sembra in maniera amatoriale sì, sembra amatoriale ragazzi, sembra amatoriale non lo dobbiamo dimostrare niente a nessuno niente a nessuno, Peppe ma tu hai capito un po' la lezione? questa è una vellutata di friariello appena vai a casa, ci proverò metti in bradi, ok non può mancare il basilico basilico fresco ragazzi c'è la pianta, vedi, io l'ho messo un pochettino nel cucinino e poi ci ho messo 40 piantine di marijona dell'ortice, niente marijona ragazzi la pizza è marijona fate i bradi fate i bradi ma c'è anche la salsiccia adesso? no no, 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 chiedo, chiedo ti stanno dimenticando la salsiccia tagliata a punto di coltello leggermente scottata meno male che ci siamo noi grazie ci ricordiamo gli ingredienti vabbè c'è anche un po' di emozione è emozionato il pizzaiolo, è emozionato il velo di fortunato sta facendo effetti effetti collaterali no, questo qua è più bello vettiti seduto con pochettino qua vuoi stare, va bene ma non ci metto i sciogli non è troppo felice la pizza sulla pala perché la pizza va sulla pala non la pala alla pizza come fanno i piemontesi piemontesi all'estero quindi come fanno all'estero delicato 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 vabbè 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 salsiccia tagliata a punto di cortina con un fior di latte questo è poco stupendo e questa ora subito ce l'andiamo a mangiare ragazzi questa che cosa è una pulizia la pulizia accurata si deve fare ogni pizza ragazzi ogni pizza c'è la pulizia del fuoco la farina è bruciata la farina è bruciata vabbè 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 vabbè